E adesso sono partiti con i problemi di Sogno Palma, problemi anche per Stripe e K, e così al comando ci va il numero 4 Sallustiorec, mentre due dei piattesi sono rimasti molto indietro, con Shari Enner che quindi affretta i tempi e adesso va su Sallustiorec che sbaglia, e così Shari Enner ne ha il comando nei confronti del numero 3 Seneca Deimar, poi al largo è rimasto il numero 7 di Spiritual R, Shari Enner 400 metri in 28.6, battistrada comodo nei confronti di Seneca Deimar, il gruppo è allungato con il numero 7 di Spiritual R che è terzo davanti a Semonfoto SM, Gira a largo il numero 10 di Scipione NG, mentre ha recuperato l'errore, il numero 11 Stripe K che cerca di risalire. Shari Enner che adesso riprende decisamente in mano, sposta anche Semonfoto SM, quando i cavalli transitano dopo 800 metri con un parziale 15.2, e Scipione NG cerca di tenere in terza ruota Stripe K che sbaglia ancora, così Shari Enner a comando all'esterno Scipione NG, di dentro c'è il numero 3 Seneca Deimar, il chilometro in 1.16.8, sposta in terza ruota adesso il numero 9 Spirit Lore, con l'errore anche di Spirit Lore, chi si avvicina lì sbaglia, così la coppia Shari Enner con all'esterno Scipione NG va e l'attacco dei 400 conclusivi con un parziale in 16.6, adesso muove il numero 5 di Semonfoto SM con Minucci che però allunga con Shari Enner che prende subito omagine dalla compagnia, Shari Enner con una curva in 15.7 entra in netto vantaggio in dirittura, Shari Enner che stacca e adesso deve soltanto far passare i metri, va a vincere Shari Enner nei confronti del numero 3 Seneca Deimar che tiene a bada il numero 5 Semonfoto SM, 3.06 la quota di Shari Enner, 1.17.3 il tempo al chilometro, normale amministrazione, Shari Enner, Gian Paolo Minucci, Giovanna Battistini al training.